Musica Buonasera dalla TG2000, bentornati a tutti voi, questa è l'edizione delle 20 e 30. Asia Bibi è libera. La donna pakistana, condannata a morte per blasfemia dopo 9 anni di carcere, finalmente è libera. La Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato contro la sua assoluzione, forse troverà riparo in Canada che ha già accolto le sue due figlie. Ma ricostruiamo la vicenda con Nicola Ferrante. A pianto, lacrime di gioia, perché ora è libera di partire e di lasciare, cioè il Pakistan. Nuovo passo avanti nell'intricata vicenda di Asia Bibi, la cristiana è madre di famiglia che dal 2009 per un'accusa falsa di blasfemia ha passato 9 anni in carcere e da 3 mesi vive in una località pakistana segreta per motivi di sicurezza, da quando, cioè la Corte Suprema a fine ottobre, l'assolve da ogni accusa e i fondamentalisti si scatenano fuori dal tribunale. Per non inasprirli, il governo pakistano aveva imposto ad Asia di non espatriare prima che la Corte Suprema avesse riesaminato il caso, una sorta di cassazione, e stamattina il verdetto finale è arrivato quando in Italia erano le 10. Secondo l'accusa, questo giudizio andava formulato coinvolgendo alcuni ulama musulmani, perché riguardava una questione di carattere religioso. Ma la Corte Suprema ha risposto diversamente. Forse l'Islam è una religione che condanna una persona senza prove, ha chiesto provocatoriamente il capo della Corte Suprema, a capo del collegio giudicante. Alla fine dell'udienza di questa mattina la Corte ha respinto questa istanza di revisione, confermando l'assoluzione per Asia Bibi e restituendole la piena e assoluta libertà, anche la libertà di lasciare il Paese. L'Alta Corte, in sostanza, apre un varco nella giustizia pakistana, soprattutto per il futuro, e si spera per la libertà di professare la propria fede. È sicuramente un grande passo avanti per il Pakistan, è una vittoria della legalità e rappresenta sicuramente un segno di speranza per le minoranze religiose e per tutto il Pakistan. E veniamo allora ad Asia, chissà quali sentimenti, quali speranze, in che modo avrà accolto la notizia? Asia Bibi ha accolto questa notizia con grande commozione, con un'immensa gioia e soprattutto con grande fede, rimettendo nelle mani di Dio la sua storia, la sua sofferenza e riconoscendo nel Signore come il datore di ogni bene, incluso il grande bene della libertà appena riconquistato. Cosa accadrà adesso? Le sue due figlie, stando a notizie giornalistiche non confermate da fonti ufficiali, si trovano già da alcune settimane in Canada. Il paese di Trudeau, al contrario della Gran Bretagna, non ha avuto paura delle possibili ritorsioni ed è perciò la via del Canada la più probabile per il ricongiungimento e il futuro di Asia, a partire, forse, già dalle prossime ore. Un altro caso internazionale, la nave della ONG olandese Sea-Watch. Il governo concede lo sbarco, ma solo a condizione che i migranti prendano la via dell'Olanda o della Germania. Berlina si è detta disponibile all'accoglienza, così come Parigi. Marco Burini. Dice che possono scendere, ma dice, dice che possono sbarcare, ma solo se vengono immediatamente presi, impacchettati e spediti in Olanda o in Germania, perché noi, dice, abbiamo già accolto e speso anche troppo. Lo dice il ministro dell'interno, d'accordo tutto il governo, ma intanto i 47 migranti, di cui 15 minorenni, sono ancora a bordo della Sea-Watch 3, davanti alla costa di Siracusa. La possono quasi toccare con mano, eppure è lontana, lontanissima. In mezzo c'è un mare di parole, più o meno sensate. L'ONG tedesca ha chiesto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo se il governo italiano, impedendo lo sbarco, stia violando i diritti fondamentali delle persone soccorse. Strasburgo ha risposto chiedendo all'Italia assistenza e tutela legale per i minori, ma non lo sbarco. I soccorritori dicono che la situazione a bordo è sempre più precaria, che le condizioni igieniche sono pessime. Il ministro della Salute Grillo risponde che va tutto bene. Ma intanto hanno portato a bordo dieci bagni chimici. Il legale della Sea-Watch dice che hanno inviato una diffida alla Capitaneria di Porto e alla Prefettura di Siracusa per far sbarcare i minori. Stessa richiesta da oltre 50 associazioni che si occupano di minori, in una lettera al presidente del Consiglio Conte. Sbarcarli subito in Italia, poi faremo la nostra parte, appena detto il presidente francese Macron. Conte, anche lui a Cipro per il vertice dei sette paesi dell'Unione che si affacciano sul Mediterraneo, ringrazia a chi ha offerto disponibilità, ma ripete che il caso Sea-Watch denuncia l'incapacità dell'Europa di gestire questo fenomeno. Intanto i cittadini di Siracusa non stanno fermi. Amnesty, Emergency, CGL, ma anche scout e famiglie protestano contro il governo, mentre l'associazione Noi Albergatori della città è pronta ad ospitare i migranti a proprie spese. Ma anche a più di mille chilometri di distanza, in Friuli Venezia Giulia, oltre 500 medici hanno firmato un appello per lo sbarco immediato. Qualcuno c'è che nuota controcorrente nel mare dell'indifferenza, per dirla Conigliana Segre. Ed è notizia appena giunta in redazione che stanotte si terrà un vertice di governo sull'argomento, mentre per il caso di un'altra imbarcazione la Diciotti pende la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno Salvini che cambia strategia e chiede che il processo non sia fatto e il Movimento 5 Stelle intanto si interroga. Augusto Cantelmi. Cambia strategia e cambia idea. Il vice premier Salvini ci ripensa sul caso della nave Diciotti. Va negata l'autorizzazione ai giudici. Il dietro front del ministro arriva all'indomani delle parole dell'altro vice di Maio a sostegno dell'ipotesi di votare sì alla richiesta del tribunale di Catania nei confronti di Salvini. C'era il rischio concreto di infiltrazioni terroristiche. Hanno sostenuto funzionari del Viminale, ma i magistrati siciliani del Tribunale dei Ministri non ne hanno tenuto conto. Ora la palla torna ai 5 Stelle spiazzati dalla contromossa del ministro dell'Interno. In serata è previsto un incontro a Palazzo Madama tra Di Maio e i senatori per trovare una linea, confermare il sì oppure, come sostiene il ministro Toninelli, la responsabilità deve essere di tutto il governo. Ma non soltanto caso Diciotti, nel governo gialloverde resta sempre alto il confronto sulla TAV. Da un dossier, questa volta commissionato dalla Lega, la sospensione dell'alta velocità Torino-Lione avrebbe un costo di circa 24 miliardi di euro. La partita dunque resta aperta, mentre il ministro dell'economia Tria in visita a Washington rassicura il debito scenderà e non servirà una manovra correttiva. Al Senato invece tra poco il voto finale sul decreto semplificazioni che dopo l'altorà del Colle ha subito diverse modifiche e saltano lo stop ai tributi per il crollo del ponte di Genova e la stretta contro la Xilella. Via Libera invece, oltre al ritorno dell'IRES agevolata per il no profit, anche al provvedimento sui noleggiatori di auto, protagonisti di nuovo ieri di una durissima protesta davanti al Palazzo Madama. E un tema su cui si è confrontato a lungo l'esecutivo è quello delle pensioni a quota 100. Da oggi è possibile presentare le domande all'Inps. L'invio è consentito per via telematica per chi ha già fatto richiesta delle credenziali di accesso o attraverso il call center dell'istituto o i patronati. Sarebbero 44 le prime domande registrate oggi. E ad ora gli esseri con la crisi del Venezuela. Il presidente autoproclamato con l'appoggio degli Stati Uniti riesce a togliere a Nicolás Maduro i proventi del petrolio. Il Tribunale di Giustizia risponde congelando i conti di Guaidó e vietandogli l'espadrio. E mentre le vittime dello scontro salgono a ben 40 da Mosca, Putin accusa, gli USA vogliono un golpe. Sentiamo Clara Ietosti. Il presidente ad Interim, Juan Guaidó, non può avvarcare i confini del Venezuela. Il procuratore generale Tarek William Saab, che qui vediamo tra i fedelissimi accanto al dittatore Nicolás Maduro nel giorno della sua presa di potere, ha chiesto al Tribunale Supremo di Giustizia di vietarne l'espadrio e di congelare i suoi conti bancari. In una conferenza stampa il procuratore ha spiegato di aver chiesto un'indagine preliminare contro Guaidó a causa dei violenti eventi avvenuti nel paese latinoamericano dal 29 gennaio e delle dichiarazioni di stati stranieri contro il governo del Venezuela. Saab è intervenuto dopo che gli Stati Uniti hanno trasferito a Guaidó, riconosciuto da Washington come legittimo presidente ad Interim del Venezuela, il controllo dei conti bancari di Caracas depositati negli Stati Uniti. Era prevedibile, Maduro e i suoi colpiti negli interessi economici hanno reagito. La giovane moglie di Guaidó, Fabiana, lo aveva preannunciato con questo regime può succedere qualsiasi cosa. In questo paese sappiamo che rischiamo anche la morte. Se loro devono ucciderti per sopravvivere, allora lo fanno. Dal catto suo il 35enne presidente ingegnere assicura di non temere le minacce del procuratore. Afferma che sta lavorando con gli Stati Uniti ma anche con l'Europa, che sta proteggendo gli interessi del Venezuela, del suo paese, distrutto e ridotto alla miseria in questi anni dal movimento ciavista, che in meno di una settimana ha ucciso 40 manifestanti e sequestrato bambini. Una dittatura dice che non ha capito di aver fatto il suo tempo e che il mondo sta prendendo coscienza di quello che accade in Venezuela. Parliamo ora delle cosiddette morti bianche. Secondo l'Inail nel 2018 sono aumentati i morti sul lavoro, 1133 sono le persone che infatti hanno perso la vita, anche a causa di malattie professionali ed è boom di denunce. Letizia Davoli. Dopo anni che avevano fatto ben sperare, grazie ai numeri in calo, tornano ad aumentare gli incidenti e i morti sul lavoro. La cattiva notizia arriva dall'Inail, secondo cui nel 2018 rispetto al 2017 gli incidenti sono aumentati dello 0,9%, le morti addirittura del 10%. In aumento anche le patologie di origine professionale, segno che nel settore sicurezza sul lavoro c'è ancora molto da fare. Soprattutto al nord, dove si è registrato in maggior numero di casi, meglio invece il centro e le isole che hanno fatto segnare percentuali negative. Quanto alla nazionalità delle vittime, crescono del 10% gli extracomunitari, mentre le denunce dei lavoratori italiani, che rappresentano circa l'84% del totale, sono in lieve calo. Ad incidere negativamente sui dati delle morti del 2018, 104 in più rispetto al 2017, da 1029 a 1133, in pratica 3 al giorno, è stato, secondo gli analisti, l'alto numero di vittime di incidenti plurimi. Il crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 denunce di casi mortali sul lavoro, e i due incidenti stradali avvenuti in Puglia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti. È morto nell'indifferenza. Un parroco si scusa per il tempo che non è riuscito a dedicargli. E da quella morte ad Acquasparta, in provincia di Terni, in suo nome continuerà a vivere il centro cittadino di aiuto Caritas. Ci racconta questa storia per Luigi Vito. Giovanni Irrera. Chi era? Giovanni Irrera non era nessuno. Come tale è morto. Comincia così la lettera che Don Alessandro Fortunati, parroco di Acquasparta, nel Ternano, ha scritto per ricordare una vittima della solitudine e dell'indifferenza. Giovanni viveva ed è morto dietro queste finestre, a pochi passi dalla chiesa. Giovanni si era trasferito qui nel marzo dello scorso anno e le prime persone con le quali ha avuto dei contatti siamo stati noi della parrocchia, soprattutto la Caritas parrocchiale. Abbiamo allestito casa con i mobili, con quello di cui aveva bisogno. Veniva settimanalmente circa, ogni 15 giorni, alla Caritas per i suoi piccoli bisogni. Giovanni cercava in paese dei lavoretti per arrotondare i 300 euro di pensione con cui tirava avanti. Andava in su e in giù per il corso con quel suo giacchettone di pile e il berretto di lana, la barba non curata, il passo stanco, lo sguardo di chi non ha grandi motivi per vivere. A fine novembre aveva detto che doveva andare a trovare sua sorella a Bologna e forse per questo nessuno si è preoccupato di non vederlo più in giro, fino a che, sabato scorso, lo hanno trovato, privo di vita da almeno un mese. Il biglietto del treno per Bologna era rimasto sul tavolo di casa. Il suo corpo, abbandonato sul letto, è restato ad Acquasparta, mentre la sua anima è stata portata dagli angeli in cielo, come quella del povero Lazzaro del Vangelo. Spontaneo è nato in Don Alessandro il bisogno di coinvolgere la comunità di Acquasparta, che si sta facendo carico delle spese e delle inconvenze per le sequie, in un ultimo messaggio per Giovanni. Vorrei chiedere innanzitutto perdono a Giovanni, a nome di tutti, a nome di quelli che non lo hanno mai salutato, a nome di quelli che hanno pensato male di lui, a nome di chi non gli ha dato delle opportunità. Abbiamo deciso di intitolare la carita sparrocchiale lui, non perché sia un eroe o abbia avuto dei grandi meriti, ma proprio perché forse la vera povertà di questi tempi è la solitudine. Giovanni è il simbolo della solitudine, vorremmo che la sua vita almeno riacquistasse più valore anche a causa della sua morte. E con questa storia si conclude questa edizione del nostro giornale, grazie per averci seguito, vi lascio a TGTG con Donatello Vaccarelli, ci vediamo domani, buonasera a tutti.